Per quanto riguarda il trasporto assistito, il gruppo sta predisponendo un proprio piano di trasferimento in linea con quelle che sono le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Questo è un lavoro molto importante che vede l'impegno delle varie società e delle varie strutture del gruppo Ferrovie dello Stato italiano. Oggi abbiamo messo sul campo la realizzazione di un'attività del piano di trasferimento che consiste appunto nella verifica del trasferimento dei cittadini del Comune di Pozzuoli. Sono giunti stazioni tramite dei bus che sono stati messi a disposizione dalla regione Campania e dall'area di accoglienza prevista nella stazione di Napoli centrale sono stati trasferiti e accompagnati al treno tramite il personale del gruppo FES in collaborazione con il Volontariato di Protezione Civile. Una volta giunti sul treno è stata simulata la partenza del treno verso la regione gemellata della Lombardia. Le altre aree di incontro previste dal nostro piano di trasferimento che sono state concordate nell'ambito della pianificazione delle emergenze nazionali che sono previste nella stazione di Napoli a Fragola, Villa di Terno ed Aversa. Per noi questo è stato un test molto importante perché ha previsto una grande opera di pianificazione sia con le riunioni propedeutiche che con la messa in campo reale di risorse e mezzi da parte del gruppo FES con il coordinamento della protezione aziendale del gruppo. Quindi diciamo che questo veramente rappresenta un momento molto importante, un momento che tiene anche conto poi della situazione particolare in cui si troveranno poi i cittadini nel caso dell'evento.